È stato inaugurato il 20 dicembre scorso, si trova a Pescara e rappresenta il riferimento abruzzese per il recupero e la riabilitazione delle tartarughe marine, ferite, disorientate, catturate o qualsiasi altra evenienza che renda loro difficile la vita in mare. Al loro fianco uno staff di volontari specializzati pronti a curarle e ridare la libertà persa. Qui dentro si compiono attività di semplice stabilazione fino ad attività chirurgiche cliniche e di riabilitazione degli animali, in modo che quando siamo sicuri di poterli rimettere in acqua rimettiamo degli animali che sono perfettamente ristabiliti, in grado di affrontare la vita in mare e soprattutto forniti di un tag metallico che li identifica in caso di ricatture successive. Ad occuparsi del centro il responsabile del centro studi cetacei, Vincenzo Livieri, protagonista di tanti salvataggi come quello che avvenne a Punta Derci nel 2014 dove numerosi capodogli rimasero prigionieri. Il nostro scopo è quello di sensibilizzare i cittadini ma soprattutto i pescatori che possono trovarsi a catturare accidentalmente questi animali, a sensibilizzarli al loro ricovero, alla loro cura per una successiva remissione. Per cui la presenza di un centro di recupero con personale qualificato è la base per un discorso di questo tipo. Un grande traguardo per il comune di Pescara che punta sul tema della tutela animale, riuscendo a costruire anche strutture di grande rilevanza. Noi ne siamo orgogliosi perché abbiamo comunque realizzato un centro all'avanguardia sul territorio italiano, un'ottima collaborazione col centro studi cetacei che ci permette di rendere questo posto un posto all'avanguardia, quindi sulla tutela delle tartarughe marine, ma soprattutto l'amministrazione ne va orgogliosa perché ha dato al territorio un'eccellenza che permetterà anche di svolgere attività didattiche con le scuole, quindi di prevenzione all'inquinamento dei mari e quindi di tutela effettiva di queste tartarughe marine. Quindi è un centro per noi molto molto importante.